Circola un luogo comune in base al quale le opposizioni nel nostro Parlamento sarebbero inefficaci perché sono divise. Ma quando mai le opposizioni sono state unite? E perché mai le opposizioni dovrebbero essere unite? Unito semmai devono essere le forze della maggioranza. E non lo sono. Dal 1994 oggi siamo governati a turno da false coalizioni di destra e false coalizioni di sinistra. Sono disuniti su questo. Ma l'attuale coalizione è disunita su cose importanti. Prendete per esempio la battaglia isolata e perdente che ha fatto il Ministro dell'Economia, sia sul contenimento della spesa, sul meccanismo europeo di stabilità. Sono disuniti sulla politica estera che è un punto delicatissimo perché non è un mistero per nessuno. La Lega sarebbe stata volentieri dalla parte di Putin. Era dalla parte di Putin. Poi ha messo a tacere la cosa. Sono unite devono essere le forze della maggioranza, le forze dell'opposizione. Pensate alla lunga stagione della democrazia italiana partita nel 1948, la Repubblica, che ha arricchito enormemente e cresciuto enormemente l'Italia. L'opposizione c'era per dire due estremi, il Partito Comunista e c'era il Movimento Sociale Italiano. Nessuno si è mai sognato di dire come mai siete disuniti e perché siamo disuniti, che siamo uno l'opposto dell'altro, almeno così ci raccontiamo. Il punto non è che le opposizioni siano disunite. Il punto è che quando si va all'opposizione, che ci va dalla destra o che ci va dalla sinistra, si cominciano a sostenere delle cose scombiccherate. Il governo, di destra o di sinistra, fa un taglio della spesa pubblica corrente? L'opposizione, di destra o di sinistra, dice No, perché quel taglio impoverisce, affama, ammala. Ma noi abbiamo un 140% di debito sul prodotto interno lordo. Il contenimento della spesa è una cosa seria. Tant'è vero che gli stessi che la criticano, quando poi vanno al governo, fanno il messire degli altri. Prendete il PD. Un PD in maggioranza e al governo avrebbe votato certamente per il rifinanziamento degli aiuti anche militari all'Ucraina. Per la semplice ragione che il PD in maggioranza e al governo ha votato e ha voluto i finanziamenti, giustamente, i finanziamenti all'Ucraina. Semmai erano le allora opposizioni che quando fu presa mano militare la Crimea si opposero alle sanzioni. E oggi, essendo maggioranza e al governo, dicono No, noi dobbiamo aiutare l'Ucraina. Prendete un altro esempio sul PD. Partito Democratico in maggioranza avrebbe dato ascolto ai suoi amministratori locali e avrebbe detto che l'abuso d'ufficio non è che va abolito l'abuso d'ufficio. Non è che se uno cancella quella legge ne deriva che adesso si può abusare dell'ufficio. È che quella legge non funziona. Perché quella legge finisce col portare sul banco degli imputati una quantità enorme di amministratori che vengono poi assolti nel corso del procedimento. E quindi è una norma sbagliata. Non è che è giusto abusare ed è sbagliata la legge contro l'abuso. È che quella norma è sbagliata, come è sbagliato il traffico di influenze. Ma siccome sono all'opposizione e la maggioranza adesso decide di cambiarlo, come chiedono da tempo sindaci del PD, allora io dicono, no, noi siamo contrari. Questa roba qui non funziona. Non funziona perché finisce col far somigliare le forze politiche e non suggerire che ci sia mai un'alternativa. Questo è il fallimento dell'opposizione odierna, come dell'opposizione di ieri. Alla fine vince quello che si contrappone all'altro. Ma non si può accampare di contrapposizioni. Si premia non te e il tuo partito per quello che dici, ma perché sei contro quegli altri che in questo momento mi stanno sul gozzo più di quanto non si ne ha. Poi però erano gli stessi cui avevo dato il 42% dei voti alle europee due volte fa. Cioè è una cosa talmente aleatoria e transitoria che la responsabilità poi è anche degli elettori, non è solo delle forze politiche. Le forze politiche, certo, in questo modo comportandosi sembrano giustificare l'assenza di forze politiche, di partiti in quanto tali. Per cui a secondo di chi è il leader, ciuccia, vede da che parte tira il vento e si mette appunto al vento. Ma questa non è politica, questo è opportunismo. Ma questa non è politica,